Zanzare l'incubo dell'estate e non solo complici cambiamenti climatici di esemplari giunti dall'Oriente che sopravvivono anche alle basse temperature, la lotta al più fastidioso degli insetti proseguirà anche nei prossimi mesi. Il Comune di Lecco ha varato un'ordinanza per evitare i cittadini a seguire comportamenti che non favoriscano il plurifedale delle zanzare anche nelle prossime settimane. Per chi non lo rispetta sono in arrivo multe fino a 500 euro. Il provvedimento giunge a completamento dei periodici interventi di disinfestazione nelle aree pubbliche e negli edifici comunali. L'ordinanza prevede fino al 31 ottobre una serie di disposizioni da mettere in pratica per limitare la possibilità che gli insetti completino il loro ciclo vitale. Ai cittadini viene chiesto di evitare di lasciare negli spazi aperti inclusi terrazzi e balconi contenitori di qualsiasi natura e dimensioni nei quali possa raccogliersi acqua piovana e evitare qualsiasi raccolta di acqua stagnante anche temporanea. Oltre a ciò è necessario procedere ogni volta allo svuotamento di un eventuale accumulo di acqua piovana. L'ordinanza prevede anche di trattare con insetticidi l'acqua presente in tombini, gridie di scarico e pozzetti di raccolta. Bisogna inoltre tenere sgomberi, coltili e le aree aperte d'erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere in modo da evitare il ristagno di acqua piovana o di qualsiasi altra provenienza. Infine, l'ordinanza prevede di provvedere al taglio periodico dell'erba nei cortili e nei terreni scoperti, così come nelle aree incolte e improduttive. A vigilare sul rispetto di queste disposizioni gli agenti di polizia locale. Chi non rispetta queste norme rischia multe da 25 a 500 euro.